Che scherzo è questo? È la nostra occasione. Il soldato di grado più alto qui è un tenente. Non avrà molta scorta, ma il forte è grande. Dovremmo sbrigarci a trovarlo. Penso che ci riusciremo. Sì. Una cosa mi turba. Che se ne fanno gli spagnoli della gente di Saint-Dangé? Perché loro? Perché ora? Non è la prima volta che mi imbatto in attività irregolari degli spagnoli. All'inizio dell'occupazione ho scoperto un complotto per controllare il governatore e prendere schiavi per progetti segreti. E? Pensavo che non sarebbe più successo. Vediamo di assicurarcene. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.